Se tocco l'acqua il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ragazzi stiamo dirigendo verso la scuola per tentare la sfida di oggi che se tocco l'acqua il video finisce E effettivamente andare nell'unico arcipelago della mappa per fare questa cosa potrebbe non essere stata una grande idea Ma a noi piace il rischio Come potete vedere stiamo giocando con Tony, Emgreen e Xenor Drago ragazzi con i quali di solito gioco in live Infatti ragazzi alle 21 siamo sempre in live ogni sera Vi lascio in descrizione nella sezione appunto live streaming Il link dove potete andare ragazzi per seguire la live io sto morrendo Mi raccomando seguitemi per non perdervi le live che arriveranno Ma io non capisco dove stanno Io sullo squadro non ci vado mai Ora cado, ah stanno sul bunker Ma è uno, è uno Poverino Questa cosa l'ho vista anche in un altro video Non su Youtube Ah la porto io, la porto io, tranquilli, tranquilli Tanto ho uno slot liber Ok andiamo ragazzi Ho trovato un modo per andare via dall'isola senza incastrarmi in acqua TAC viola Ok raga vado a fightare con un team Ciao Io non capisco perché mi lasciate ancora il rampino se sapete che poi me ne vado da solo fuggendo Cioè Madonna Per panico Vorrei cadere in acqua per non morire Però mi sa che mi faccio a piedi raga Uh TAC blue va bene Ah vi voglio tanto bene ragazzi Una domanda Chi vuole essere picchiata? Mega poteva essere una jump Perché ci avrebbe salvato il game Uh airdrop È proprio il caso di lanciarmi addosso a quegli airdrop da solo Un team Ah ok ok Effettivamente Doveva finire così a un certo punto Ok Una a terra Una a terra Ok raga no Sono scarsi Sono scarsi Cioè si sono fatti crack a tutte e due Cioè sono Stanno a terra Devo capire solo dove stavano i compagni Perché non Cioè Il razzo di chi è? Ah ok Aspettate vi dico subito ragazzi Dov'era Controllate Interrogo Data Ok lo vedete Lo vedete Lo vedete Vai vai Ok GG Ho dato l'appro Uh ragazzi Lascio uno scar oro Cioè lo scar mitico probabilmente Non è manco quello oro E Skies Assault rifle Quindi dovrebbe essere più figo di quello oro proprio Mi sa che devo correre a prenderlo Poi sul fucile a pompa Ragazzi safe No era per dire ragazzi Mi sto allontanando Per impegnare un team da solo Cioè era quello che intendevo Un altro up Bello vuoto Bello Mamma c'è una caramella a terra Me l'ha lasciata uno sconosciuto Vado Lanciarà zioro Raga Questa pure qua è il coso che ci possiamo sfondare Sono un deficiente Xenor Xenor mi farò perdonare Sì ragazzi molto vicino Ah sta arrivando da noi Ovviamente Sono scendendo Scendendo di quota Uno craccato sulla sinistra Ok Forse era sulla destra Una terra Quella terra lo confermo Rip Sta là Sta là L'ultimo è rimasto là Da te Xenor Craccato Ha solo vita Bella GG Ok Questi Questi per esempio Sono stati proprio Distruttati Ehm Elicottero? Non sta un elicottero davanti? Ah si Eh beh però se ne stanno Ma se stanno a buttare dall'elicottero Non ho capito Si se stanno a buttare seriamente dall'elicottero Vabbè in acqua probabilmente Cosa che non posso fare Si sono caduti tutti in acqua Sta gente è là Raga più o meno Dove? Ah Bello Fresco Eh raga Vado pure io Oh lo voglio non rianimare Lo voglio non rianimare Lo voglio non rianimare Eh ma Xenor sta da solo Vabbè raga Ho la scuola per pushare Non devo fare cazzate Non devo fare cazzate Ok non sono andato in acqua Troppo forte Xenor sto con te Rip Bello Sta uno qua No shield Sopra Sopra tutto Sopra tutto Se sta più al high ground Ma questo chi è? Eh ma green Cristo tanto è Mamma mia Non ci ho capito niente Interrogo Ah ragazzi Chiudete 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 Ah lascio una bozza grande Sta flopper Pozza grande flopper No vabbè Fra siamo tutti Tranquillo Si sta qua sotto Madonna mi sono arrivato 40 In un colpo Sono troppo forte Ah che bello Eliminare la gente così Ripperoni Ok ok Qualcuno può Darmi qualcosa per la vita? Arriva arriva Ok Va bene Va bene va bene Va bene Si ma sta tipo in safe Ah raga Barrettoni Stanno col barrettoni Attenzione Pure Si è vero Raga Eh raga Qualcuno se faccia quello sotto Noi restiamo sopra A vedere se questi pushano Fatevelo voi Fatevelo voi Ok raga Quelli stanno in safe E muoiono Cioè Ah jump Veramente No qualcosa mi dice Che la jump Non vi andrà bene Una terra Una terra Uno craccato Di quelli Che stava fuggendo Con la jump Raga Dobbiamo andare Dobbiamo andare Interrogo Ok stanno più o meno In quella zona lontanissima Eh però hanno il barretto Ok Barretto oro Barretto oro Vabbè tanto ormai Ce ne dobbiamo andare Ok Ok tranquillo 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 Non fatemi cadere Non fatemi cadere Vi prego Ok mamma mia Ragazzi Panico Io ne ho due Io ne ho due ragazzi Sinceramente ve le darei Perché io tanto Io me ne posso andare Se qualcosa No No Xenor Xenor Copro Xenor E rianimatelo Ragazzi rianimatelo Ok non credo Ce la facciamo Mamma mia Come sono simpatici Ok 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 Raga rianimate Xenor L'importante è Xenor L'importante è Xenor Mettila Xenor Mettila subito Appena parti Subito Ok 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 Io vado pure io Perché sto messo male Tony non fa No raga Ragazzi Ragazzi mettetela Mettetela Ma avevo fatto la scala Raga avevo fatto la scala Mamma mia ragazzi Che brutto Eh raga ma stiamo messi tutti malissimo Lascio una bozza grande Ma qua ci dobbiamo curare tutti Eh raga Mi sa che dobbiamo andare a sparare A band Ho curato la persona Con più vita di tutti Va bene Eh si ho visto Quello che la mendicante Ha fatto capire manco Su che pianeta stavi Che poi il panico Ragazzi Mentre sopassavo il fiume Ho detto Mocado Mo' è finita Infatti ho dovuto fare una scala Ho dovuto fare tutta una cosa Xenor prendi tutto il bandage Attenzione sulla sinistra Anche se non mi sembra Ci sia gente Vabbè raga vado un attimo A vedere se questi C'hanno loot di vita Vi faccio sapere Se è un team Quella a sinistra Grazie Grazie No non sto pusciando tranquillo No vabbè Non avevano niente Pozze piccole Barrett Vabbè Mi piglio pure io le pozze piccole Che dobbiamo fare Grazie bro Eh raga ma questi Controllo nel cespuglio Ragazzi vedo se mi ammazzano Noo No nel cespuglio Cespuglio vuoto Cespuglio vuoto Eh raga Aspettate Aspettate Sta un apro vicino a noi Ah gente Gente sull'apro Gente sull'apro 33 33 Eh ragazzi Qua ci tocca Fai da Perché Ah ti sei fatto saltare in aria Mi sembra giusto Ah Tranquilli 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 Come se non fosse successo niente Sì Sì È l'ultimo team Morto 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 Me lo tengo io Me lo tengo io Me lo sto a tenere io A terra A terra Interrogo Me pusha Me pusha Pusha tu di me Bello M'ha fatto M'ha fatto Non è vero Non m'ha fatto Raga Mancano gli ultimi Mancano gli ultimi Calma È fatta È fatta È fatta Calmi 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 Ok Faccio questa cosa Tanto siamo 4 contro 1 Raga Calmissimi Ah safe 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 Questa zappa la vita Tipo Corri Madonna Raga Siamo tutti messi malissimo Vai Qui ridiamo e scherziamo Ma io devo ancora trovare Delle cure di vita Da quando stavamo messi male Vabbè raga Ne ci spugli Sta qua Sta qua Ma che cazzo Non avevo capito che stava davanti a me Bella Vabbè raga GG Sfida fatta Ma mica ho toccato l'acqua Non avevo capito che stava davanti a me Vabbè raga Non avevo capito che stava davanti a me Bine Domicilio Non avevo capito che stava davanti a me Vabbè raga Vabbè raga